del 1920. Dobbiamo sapere che appartiene al principe Ranieri di Monaco che passò tra il 50 e il 59 anni in cui ne fu il proprietario, addirittura anche la propria luna di miele insieme a Grace Kelly su quelle imbarcazioni. E ora sfila davanti alla banchina e davanti alla giuria, imbarcazione barichita, sulla cui brua un violinista alieta con le sue note lo sciapordio del mare sulla chiglia. Grazie. 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 Grazie.